Presidente, Lombardo ha parlato all'Arsa, ha garantito che entro ottobre in Sicilia si andrà alle urne. Dalla Pdl si dice che devono essere dimissioni, non per problemi giudiziari ma per problemi politici, perché la Sicilia non è andata avanti, piuttosto è andata indietro. Penso che oggi sia una giornata importante perché la vera notizia è che Lombardo ha annunciato le dimissioni da Presidente della Regione. Si voterà in autunno, noi a questo punto chiediamo di accelerare, di fissare la data, di dire quando si dimetterà realmente da Presidente della Regione. Noi abbiamo sempre sostenuto, non siamo garantisti a giorni alterni, abbiamo sempre sostenuto che Lombardo debba chiudere questa esperienza, intanto per motivi politici, per motivi amministrativi. La bocciatura da parte del Commissario dello Stato di quasi tutta la finanziaria, della copertura finanziaria alle leggi che sono state approvate, mi pare che sia la prova più evidente della incapacità di questo Governo. Nessun rigore nella legge finanziaria, nessun risparmio, solo tagli indiscriminati e sostanzialmente nessuna norma per la crescita, nessuna norma per lo sviluppo. È una serie di illusioni, sembrava la fabbrica delle illusioni. Non è mai capitato, non è mai successo come in questa occasione, che il Commissario dello Stato deve intervenire per farci diare una finanziaria che chiaramente era una vera e propria fabbrica delle illusioni. Dai pensionati ai giovani articolisti, ai dirigenti dei beni culturali, all'Aran, mi pare che sia veramente una improvvisazione assoluta. Lui oggi ha dichiarato che non c'è armonia all'interno dell'Assemblea regionale, noi riteniamo che non c'è nessuna sintonia tra il Governo e la maggioranza che lo sostiene. E allo sbando, meno male che il Commissario c'è, che è intervenuto così come noi pensavamo di fronte ad una legge che era assolutamente inapplicabile.